All'inizio non ci hanno mica creduto. Io credo che molti hanno pensato che il papà volesse fare qualcosa di patetico, forse non avevano capito che noi volevamo fare qualcosa di più di un libro. Io ho scritto questo libro con Tommaso, io per esempio le illustrazioni di questo libro non le ho mica fatte io, le ha fatte Tommaso. Dentro questo libro i disegni fatti a matita sono i disegni che faceva Tommaso, perché Tommaso era un artista. La cosa penso che è più importante per la quale sono qui non è solamente questa, per la presentazione del libro, ma anche per dare un aiuto a tutte le famiglie che lottano giorno per giorno per cambiare delle leggi. Non dobbiamo avere paura di morire, dobbiamo avere paura di non aver mai cominciato a vivere. Saltate subito dentro la vostra vita. Tommaso ci ha saltato dentro questa vita. Tommaso è con noi, Tommaso è con noi. Se ci crediamo, no? Poi c'è chi non ci crede, ma io ci credo. E come? C'è chi non ci crede, ma io ci credo.